Di recente abbiamo fatto il video sul divorzio di Johnny Depp e quindi dovreste tutti aver imparato quanto sia importante sin dall'inizio evitare ragazze sbagliate. Nel video di oggi vediamo 5 segnali inequivocabili che è meglio che la lasci prima di subito. Prima di cominciare ti ricordo una cosa importante però, se ti interessa la soluzione, è anche un canale Telegram dove ti do informazioni che qui dove mi vedi ora non ti posso dare. Il canale si chiama Gio di Lorenzo, ti lascio il link in descrizione e ci vediamo lì. Bene, cominciamo. 1. Non si prende responsabilità per gli impegni presi o per le conseguenze delle proprie azioni. Se si comporta di merda e tu glielo fai notare, si incazza e se la prende con te, dice che lei non ti interessa abbastanza e cerca di portarti a inseguirla, se ha risposta, e sì, dalle un calcio in culo. Donne di questo tipo non si prendono mai la responsabilità delle proprie azioni e se lo fanno, ti fanno le classiche scuse di Bar Simpson, ossia due secondi dopo stanno di nuovo facendo la stessa cosa come se nulla fosse accaduto. Ed in ogni caso la colpa di quello che fanno è sempre di qualcun altro. Arrivano in ritardo, hanno un repertorio praticamente infinito, non si sentiano bene, il fratello è uscito senza le chiavi, hai sbagliato tu a mandarle un messaggio un po' chiaro, anche se il messaggio con le indicazioni che le hai dato era chiarissimo, i mezzi pubblici erano in ritardo e qualunque cazzata le venga in mente. Due, incapacità di arrivare a compromessi. Ha questa mentalità da principessa sul pisello per cui o si fa quello che vuole lei e le piace, o ti pianta un muso e comincia a comportarsi in maniera manipolativa per ottenere quello che vuole. Mentre devo ammettere che parte del problema sono la moltitudine di uomini che sono degli zerbini e che gliela fanno passare liscia pure se commettesse un omicidio, comunque non cambia il prodotto finale che ti ritrovi in mano. E c'è una donna che non investe un fico secco nella reazione con te. Tre, ti controlla. Ad esempio vuole controllare con chi esce, con chi parli, vuole decidere cosa puoi e non puoi fare, vuole che ti liberi di amici senza una buona ragione. Quando una donna inizia a macrogestire la tua vita, non solo è la donna sbagliata, ma per di più tu hai già fallito nel gestirla, in quanto non sei stato in grado di mostrare forti linee di confine, quindi è solo questione di tempo prima che lo prendi in quel posto. Quattro, è eccessivamente gelosa. Un po' di gelosia è normale in una donna, ma quando diventa eccessiva, in buona sostanza che lei ne sia consapevole o meno, sta cercando di manipolarti e di addestrarti, e tu non vuoi trovarti in questa situazione. Se poi questo sconfina nel guardare il telefono, email o quello che è, liberatene prima e subito. Cinque, prende e non dà mai nulla in cambio. Che questo sia il pagamento di un conto a letto o quel che l'è, significa che non vuole investire su di te. Quindi anche se ti ostini a tenerla, stai perdendo tempo, perché sotto sotto non ti vuole, e si sta già molto probabilmente guardando attorno. Detto fra i noi, se sei in situazioni simili, puoi fare meglio di questa merda per te stesso. Quindi scarica il bonus gratuito per iniziare a saperci fare con le donne, e fra solo un secondo ti spiego come fare. Stop, non scappare subito. Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare a ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare a usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Quindi clicca il link a destra per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.